Servitevi un tè, un caffè, mettetevi comodi nella vostra poltrona preferita perché anche quello che ho da dirvi oggi vi interesserà sicuramente. Ciao a tutte le videamatrici e videoamatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Ritorna come di consueto l'appuntamento con le buone notizie della settimana in linea con la nostra deprogrammazione in una sorta di demolizione controllata di quella che la programmazione mediatica del mainstream, del pensiero unico vorrebbe affliggere, vorrebbe assoggettarci tutti qui su Senza Fissa Dimora cerchiamo di fare il contrario capovolgendo il paradigma e mettendo i puntini sulle i mettendo in evidenza invece tutto ciò che sono buone notizie. Partiamo da un fatto di cronaca, di attualità anzi in verità mettiamo insieme alcuni avvenimenti che sono successi nelle settimane precedenti fino a poche ore fa che riguardano il conflitto in Ucraina. Abbiamo visto tutti l'isterismo collettivo con cui sono stati annunciati missili sulla Polonia da parte della Federazione Russa notizia che in poche ore, in pochi minuti non solo è stata smentita ma ci sono state prove, testimonianze, foto che hanno in verità dimostrato due cose la prima è che la responsabilità non era dei russi e la seconda è che Kiev mente è chiaro che due missili che uccidono persone non possono essere una buona notizia ma quello che io invece vorrei mettere in evidenza è che questa tipologia di propaganda che inventa letteralmente notizie senza base di approccio giornalistico senza rispecchiare la realtà ma che tende solo a diffondere il panico ha molto spesso un effetto contrario e cioè quello che sempre meno persone credono ai giornali ma non solo che sempre più persone capiscono che moltissime delle affermazioni che troviamo da parte del governo ucraino non hanno nessuna base oltre a quella di destabilizzare l'opinione pubblica di creare consenso in una sorta costante di creazione di false flag volontarie o no non ha molta importanza e tutto ciò dovrebbe se non altro risvegliare sempre più persone che trattasi di propaganda così come possiamo considerare a volte la propaganda russa sbagliata ma dobbiamo considerare altrettante volte la propaganda ucraina altrettanto fuorviante così come era stato per le annunci che vedevano la Russia in un autoattentato al ponte in Crimea al gasdotto Nord Stream 1 e 2 qualche settimana prima tutti questi avvenimenti reali vengono trasformati dalla stampa con il solo fine di manipolare di manipolare sempre più l'opinione pubblica occidentale verso la creazione del nemico russo e in ultimo abbiamo piogge di missili sulla centrale di Zaporizia nome impronunciabile per me la prima cosa che salta all'occhio è che nella dichiarazione post referendum delle cosiddette regioni che vengono chiamate separatiste ma che in verità sono l'esatto contrario si vogliono riunire alla madre Russia bene come vediamo da questa mappa la centrale si trova in territorio russo in territorio protetto dai russi in territorio separatista chiamatelo come volete ma si trovano dal lato russo quindi che interesse avrebbe la Russia a bombardare i propri territori trattasi sicuramente di una zona di confine io non ho la verità non ho nessuna informazione diversa da quella che voi potete avere leggendo giornali di tutta Europa e di tutto il mondo ma basta un poco di logica e uno sguardo dall'alto in una cartina geografica per capire che certo trattaci di zona molto delicata ma che la versione più plausibile non è quella diffusa non è una buona notizia senza dubbio un attacco alla centrale nucleare con tutti i rischi che ci sono ma come pochi giornali sottolineano vi sono anche delle presenze di osservatori internazionali proprio vicini alla centrale nucleare in questione e nessuno di loro sembra tanto convinto che all'origine di questi attacchi ci siano i russi ma esistono invece molti dubbi che all'origine di questi attacchi ci siano gli ucraini e tutto ciò non fa altro che deprogrammare le persone e smontare di fatto la narrazione ufficiale ma per la seconda buona notizia facciamo un salto oltreoceano dopo la conquista della Camera i repubblicani sono pronti ad aprire un'indagine ufficiale sulla famiglia Biden nella conferenza stampa sembra proprio che come prima intenzione da parte dei rappresentanti leader dei repubblicani negli Stati Uniti una commissione di inchiesta verrà aperta proprio nei confronti di tutta la famiglia Biden in primis del figlio dopo gli scandali che riguardarono il portatile che finì nelle mani della polizia americana dell'FBI e di molti altri investigatori sorgono molti dubbi sugli interessi soprattutto gli interessi della famiglia Biden soprattutto in Ucraina ma passiamo alla terza ed ultima buona notizia e riguarda i mondiali del Qatar un'ennesima operazione di marketing e di propaganda LGBT coinvolge tutti i giocatori dei mondiali che infatti vengono invitati a portare un braccialetto arcobaleno alla inaugurazione di ogni match di ogni squadra in un paese che invece dichiara apertamente di non condividere queste politiche e di non accettare la propaganda verso una certa minoranza di popolazione al di là del fatto che possiamo condividere o meno la posizione degli emiri del Qatar e di chi gestisce tutto il mondiale del Qatar quello che succede ad oggi e che si sa è che solo sette forse otto capitani delle squadre hanno accettato di portare incondizionatamente questo braccialetto questo simbolo rischiando però delle ammunizioni preventive da parte della FIFA stessa FIFA che si dichiara invece in linea praticamente totale e in rispetto del paese ospitante dei mondiali cioè del Qatar nella decisione di non portare questi braccialetti questa discussione è stata molto amplificata da una conferenza stampa in cui il portiere della Francia dice che non porterà questo braccialetto la sua decisione arriva e infatti vediamo che in un tweet il portiere della Francia che è anche chiaramente il capitano della nazionale francese dichiara la mia opinione personale è anche quella del presidente della federazione calcio francese che aveva appunto raccomandato all'equipe di Francia di non portare il braccialetto e la giustificazione di questa scelta è quella del rispetto del paese ospitante ma non solo il portiere infatti continua prendendo proprio l'esempio della Francia e dice se è vero che la Francia chiede agli stranieri che vengono nel nostro paese di rispettare le nostre tradizioni gli usi e i costumi appunto europei e francesi nello specifico noi stessi dobbiamo fare la stessa cosa in Qatar e sulla stessa linea è il presidente della federazione calcio francese che dichiara possiamo discuterne dice ma mi piacerebbe che i giocatori in buona sostanza non portassero questo braccialetto perché andiamo a giocare in un paese e bisogna rispettarlo aggiunge se dovremo portarlo lo porteremo ma io non sono favorevole a questa decisione ma qualche volta dice bisogna ammettere che è rischioso dare delle lezioni ad altri paesi prima di guardare in casa nostra se succederà qualcosa che non mi piace che non mi piacerà in Qatar sarò il primo a segnalarlo ma per adesso non c'è niente di tutto ciò bene spero che queste tre notizie vi siano interessate e che servono un po' a alimentare lo spirito critico a non creare sempre e solo un pensiero unico e dominante su tutte le ideologie su tutte le opinioni e su tutti i fatti anche di attualità deprogrammandoci un poco a favore di un cammino individuale per una libertà collettiva grazie a tutti voi che avete visto questo video fino a questo punto vi invito come sempre a mettere un pollicione in su a condividere i video nei vostri social e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto se poi volete approfondire tutto ciò che è deprogrammazione neurolinguistica potete acquistare questo mio nuovo libro uscito da poco trovate tutti i link del caso in descrizione di ogni mio video grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti